Ciao, bentornato a Rock'n'Safe, in particolare a B-Side, uno spazio dove parliamo di salute e sicurezza, non sempre e solo sul lavoro, ma più anche in generale. E sappiamo che quando parliamo della società civile le nostre strade le facciamo diventare pericolose attraverso i nostri gesti. Sì, possiamo avere le strade con le buche, quello che ci pare, però tendenzialmente siamo noi alla guida del nostro mezzo che possiamo fare il bello e cattivo tempo, che sia due ruote a quattro ruote. Beh, ne abbiamo parlato altre volte, ma oggi abbiamo un ospite speciale, il primo nel suo genere, che viene da una cultura dei motori, insomma, dai tempi del padre, ma lui poi l'ha portata avanti, non solo a livello professionale, non solo lasciando le ruote, ma anche planando sull'acqua, ma fa della bellissima attività formativa sia agli adulti e ai ragazzi. Beh, insieme a noi abbiamo Gian Maria Gabbiani. Ciao a tutti, ciao Stefano. Mi sono bloccato un attimo perché stavo uscendo Gian Marco, scusami. Ciao Gian Maria. Va bene, va bene. Guarda, di solito mi chiamano GM perché ho vissuto tanti anni in Stati Uniti e non riuscivano a pronunciare Gian Maria, quindi GM come General Motors va benissimo. Va benissimo. Beh, dicevo, insomma, te vieni da un passato, ne parlavamo poco fa, dove sin da piccolo hai iniziato veramente, quando la mia bimba andava in bicicletta, ti andavi già sui go-kart. Sì, è una passione di famiglia che arriva da lontano. Addirittura mio bisnonno era uno dei primi a avere le motociclette, mio nonno, un grande appassionato di motori, mio papà ha corso in Formula 1, io poi ho corso in altre discipline, però insomma l'ho fatto diventare un lavoro. Beh, non contento poi di fare i campionati offshore, quindi anche sull'acqua. Diciamo che mi piace molto la sfida e le nuove sfide. L'acqua è nata per caso e mi sono appassionato perché è uno sport abbastanza antico e ancora oggi, quando posso, salgo in barca. Ho appena fatto la Pavia Venezia, che è una gara storica sul Po insieme a Cristian Ghedina e quindi appena posso, insomma, mi metto in discussione, insomma, di volta in volta. Bellissimo, anche un contesto, insomma, un panorama non da poco, fantastico. È curioso, ovviamente te facendolo a livello sportivo e professionale, andate a, cioè, avete dei limiti che sono ovviamente diversi rispetto alla persona, visto che sono temi di queste settimane che va su un motoscafo, su un lago, così a livello bistico, piuttosto che alla guida sulle strade. Nel tempo proprio hai sviluppato poi anche una, hai proprio un'organizzazione che tratta la tematica della sicurezza sia nelle aziende che in ambito scolastico, comunque con i ragazzi. Sì, abbiamo creato due livelli di intervento. Una è quella, ovviamente, di informazione. Cerchiamo di dare un'informazione un pochino diversa da quella canonica. Certo, non fare quello perché può succedere qualcosa di brutto. Ok, questo è quello che viene detto il più delle volte. Io cerco di dire, guarda, non fare quello perché potrebbe succedere una situazione oppure se tu anticipi determinate azioni con delle prevenzioni, è molto facile che tu non abbia problemi. Ecco, più o meno è questo. E quindi far percepire le conseguenze, perché poi alla fine magari facciamo quel qualcosa e definiamo come adrenalinico per divertimento, in genere per divertimento, però poi rischi di privartene nei giorni successivi del divertimento perché poi se ti ritrovi, non facciamo le tragedie con una gamba... Basta un braccio rotto. Un braccio rotto, ora che siamo in periodo estivo, insomma, per una cavolata ti sei sciupato tutta l'estate. È importante. E prima di collegarci, dicevi un aspetto interessante relativo proprio all'educazione, proprio per l'ottenimento della patente, che all'estero c'è una sensibilità diversa quando dobbiamo prendere la patente. Guarda, non voglio essere esterofilo, però la realtà è che in Nord Europa hanno una forte attenzione per quanto riguarda la sicurezza stradale. Prendono le scolaresche, almeno una volta all'anno le portano in piste di go-kart per insegnare a capire intanto le dinamiche del veicolo, quindi che cosa è sottosterzo, sovrasterzo e soprattutto il controllo e traiettorie e prevenzione. Quando parlo di traiettorie si pensa sempre alla Formula 1 o alla performance. In realtà la traiettoria serve anche per rendere più sicura la tua guida e anche se la carreggiata, quindi lo spazio di carreggiata è minimale, si può sempre lavorare con una traiettoria ideale. Questa è una cosa che molte persone danno per scontato e in realtà è fondamentale, quindi meno scuotimenti, faccio un esempio, meno scuotimenti della vettura più controllo, quindi comunque il volante è uno strumento di precisione, un po' come il bisturi per il dottore. Questa è una cosa che poche volte viene detta, quindi un'altra cosa che cerchiamo sempre di raccontare è che la vettura non è il tuo salotto, cioè nel senso quando ti siedi nell'abitacolo della tua vettura sei comunque all'interno di una scatola di lamiera e non è che devi stare comodo. Devi stare, sì, comodo, ma comunque con una solia attenzione più alta. Quindi, sì, bravissimo. Questa cosa viene a volte, mi capita spesso quando andiamo a fare i corsi di guida in pista, ma io sto comodo. Sì, il tuo star comodo implica però uno stile di guida molto più pericoloso. Quando poi facciamo gli esercizi e dimostriamo che la posizione di guida corretta è più sicura, è bello perché vedi proprio un cambiamento nelle persone. È ovvio, e tornando al discorso di prima, che una scuola di guida normale, quindi per la patente, è molto incentrata a quelle che sono le regole istituzionali, quindi ovviamente il comune vivere durante la mobilità. Ci sarebbe questa appendice, secondo me, da aggiungere a partire dalle scuole. È un esempio che facciamo spesso. Alla fine in Finlandia ci sono pochissime persone, sono 10 milioni più o meno, adesso il numero esatto non lo so, però hanno un numero di campioni del mondo di Formula 1 e di rally superiore a tutte le altre nazioni, quindi una percentuale incredibile. Fin da piccoli. Perché fin da piccoli questi girano al volante. È importantissimo e sono degli spunti di riflessione non da poco. Così come è interessante anche, visto che quando parliamo di sicurezza, la formazione è un aspetto importante perché ci prepara, ci prepara. La sicurezza è quella, io dico sempre, qualcosa di invisibile che magari non ci accorgiamo nemmeno dalla sua esistenza fino a quando quel giorno ci torna utile. E ti hai detto una cosa interessante, visto che fai corsi di guida di sicura, che non prendi auto, tendenzialmente ti adatti alla flotta aziendale, la flotta auto aziendale. Perché? Perché giustamente se io domani dovrò andare a guidare quel tipo di macchina, è inutile che mi fai tutte le prove, mi dai tutti gli insegnamenti su un altro modello. Questa è una cosa molto importante. Allora, ci sono vari livelli di corsi di guida. Ovviamente è il portafoglio che la fa da padrone, quindi puoi spendere molto, fai corsi di guida con la Ferrari, con la Maserati, con la Porsche, tre, quattro giorni ed è più incentive che formazione. È ovvio che alla fine si parla di sicurezza, il concetto deve nascere con quella che è la tua vettura, quella con cui fai più chilometri nell'arco dell'anno. E credo che comunque sia una formula vincente, o almeno le persone con cui ho lavorato, addirittura hanno cambiato la vettura. Perché ci sono vetture che hanno dei limiti strutturali. Quindi persone che magari viaggiavano pensando che il proprio SUV fosse la macchina più sicura al mondo, con degli esercizi a bassa aderenza, in situazioni limite, si sono trovati in situazioni di pericolo. Se ne sono proprio resi conto e hanno cambiato la vettura. Questo secondo me è una grande vittoria. Noi dobbiamo prepararci a quell'imprevisto, cioè dobbiamo essere pronto in quella frazione di secondo. Perché io faccio 100.000 km all'anno, non è mai successo niente da 20 anni. Sì, però poi se tu non sei preparato in quella frazione non ne fai altri 100.000. E questo è un altro mito che bisogna sfastare. Cioè nel senso non è detto che chi ha la patente da 20-30 anni abbia sempre condotto una guida sicura. Io la chiamo guida fortunata. È ovvio che... La fortuna non è un dispositivo di sicurezza, perché oggi c'è domani chissà. Questo è bello perché dai delle evidenze, magari non ci posiamo l'attenzione, anzi hai parlato qualsiasi sia, però insomma uno pensa al SUV come una macchina grande, quindi sicura, e invece ci sta dicendo che non sempre è proprio così. Fai presto a fare dei calcoli. A 100 km all'ora, quindi estremamente in codice, in autostrada, fare una frenata d'emergenza devi bloccare due tonnellate erotti di vettura. Una macchina che già ne pesa la metà sarà più facile da... questa è fisica, però sai, la gente pensa sempre all'impatto, no? Io quando impatto io schiaccio tutto quello che ho davanti. Sì, ci può stare, però comunque la causa che viene scatorita è che comunque è una massa enorme, quindi se magari al posto di impattare, distruggere tutto quello che è davanti, magari ti fermi 5 metri prima, è meglio per tutti. Meglio evitare l'impatto. Un altro aspetto interessante era, parlavamo del casco, no? Perché sono tutti quei gesti, non andiamo, compriamo il casco del colore che ci piace, della marca che ci piace. In realtà il casco è un dispositivo di sicurezza che sicuramente insomma il mercato ci offre tanti modelli, tanta estetica gradevole, ma te innanzitutto su questo non hai dubbi. Casco aperto o casco integrale? Allora, casco integrale per me sempre, anche al mare, anche per andare a prendere il caffè a 300 metri. Semplicemente, per quanto banale possa essere la risposta. Perché? Guarda, noi quando facciamo i corsi nella scuola che spieghiamo appunto quello che è la nostra idea di guida sicura, sulle due ruote in questo caso, porto spesso e volentieri dei volontari della Croce Rossa o comunque delle varie realtà di soccorso. Il 90% sono ragazzi che vanno a scuola la mattina e avere un casco aperto, per quanto uno non prenda la multa, in realtà se picchi, io ad esempio ho il naso molto pronunciato, molto grosso, quindi è molto facile rispaccarmelo nel momento in cui ho un casco jet, un casco integrale, comunque ti protegge la mascella, i denti. In caso di impatto molto forte ti salva anche la vita. Adesso non voglio essere troppo, insomma, sono di parte perché Zanardi è un carissimo amico, però un casco da bicicletta ovviamente è minimale, è proprio veramente fin troppo poco. Non ti copre nemmeno la parte delicata, sono le tempie poi, no? Lui l'impatto grosso ce l'ha avuto sul viso e ha avuto una grossa, ha quasi distrutto, non so quante decine di fratture ha avuto sulla parte anteriore del volto. Quindi un casco integrale in quel caso l'avrebbe preservato molto di più, poi sai, infatti c'è un limite strutturale che è ovvio a 100 all'ora contro un muro ti uccidi, cioè non ce n'è poi avere anche la corazza di Iron Man, però ti disintegri. È ovvio che devi cercare di prevenire il più possibile quelle che possono essere delle situazioni che tu dai per scontato. Cioè io mi sono messo il casco jet, sono invincibile, non ti danno la multa, ma non sei invincibile. Quando parliamo appunto sempre di due ruote, il casco integrale rigorosamente abbinato a un paraschiena, perché se scivoli e sei tu l'asfalto e magari un tombino o un marciapiede, quindi è facile rimanere in carrozzina, molto più di quello che le persone pensano. Quindi il paraschiena può aiutarti di tanto ad essere, a rialzarti in caso di una scivolata. Quindi diciamo che il trittico sono dei guanti a doppio cinghietta per non perderli, perché poi ovviamente in un impacco spariamo sempre 50 all'ora, quindi velocità urbana. Scivolo, appoggio la mano sull'asfalto, perdo il guanto, il resto poi c'è la mia mano. Ed è una situazione che non è piacevole. Quindi il trittico è guanto a doppio cinghietta, che aiuta tantissimo, quindi derivazione racing, ecco. Un casco integrale e il paraschiena. Sembra di essere un Power Ranger però comunque il livello di sicurezza si alza in maniera esponenziale. Questa è una cosa che pretendo, insomma, di insegnare e appunto di trasferire nel tempo. Ormai lo faccio da tanti anni e devo dire che mi iscrivono sui social tante persone, mi ringraziano. Ho trovato una situazione di pericolo, sono cascato, ho segnato il paraschiena, ma mi sono rialzato. Come avevi detto tu, queste sono cose che poi quando succedono ti rendi conto quanto è tornato utile. Beh, io ho già voglia di venire a uno dei tuoi corsi perché poi ti presenti così bene che dai consapevolezza e quando parliamo di formazione sappiamo l'importanza anche di saper insegnare, non solo fare l'elenco delle cose. E poi con aspetti pratici. Un'ultima battuta, prima abbiamo detto che i tempi di reazione dell'essere umano sono veramente infinitesi, si parla veramente del decimo di secondo. Ma con tutta una serie di accortezze possiamo quantomeno ampliare per quanto di poco questa reazione. E qualcosa che io mi porto a casa dall'intervista di oggi è l'attenzione alla visiera del casco che francamente, è ovvio se hai la visiera tutta graffiata non ci vedi più niente, però insomma per te è un aspetto importante. Beh, guarda, assolutamente sì perché la vista è il nostro primo dispositivo di sicurezza quindi comunque devi avere ben chiaro quello che ti sta succedendo e ovviamente avere i tempi di reazione e soprattutto gli strumenti per capire cosa fare. Gli esempi principali sono sicuramente la visiera, il parabrezza, comunque anche il parabrezza, l'ercio implica problematiche, chiamiamole così. E abbinerei un'altra cosa che è la scarpa da guida. Importantissimo specialmente per i neopatentati o per le neopatentate che più delle volte sai fai serata, vai a un concerto, magari allo stivale col tacco alto o la scarpa col tacco alto. La scarpa da ginnastica ti aiuta a utilizzare il pedale del freno, quindi in questo caso l'ABS, sistema antibloccaggio in caso di una frenata d'emergenza, utilizzare quelle che sono i chili esatti di spinta, tradotto, per far attivare l'ABS ci vogliono circa 30 chili di spinta. Se nel momento in cui fai una frenata d'emergenza, stiamo parlando di una frenata d'emergenza, quindi io mi devo fermare nel minore tempo possibile, urto con il tacco il fondo del mio abitacolo, dissipo i miei 30 chili e ne lascio 15 sul tacco e poi ovviamente facendo questa manovra tocco il pedale dell'ABS che non si attiverà perché tu hai spinto molti meno chili di quello che dovrebbe e tu al posto di frenare in 10 metri freni in 15 o in 13, in 3 metri se calcolate c'è tantissimo spazio, può esserci qualsiasi cosa. Quindi questi sono due accorgimenti che chiediamo sempre e poi invece sulla posizione di guida ci sarebbe da rivedersi un'altra volta perché alla fine il 90% del tuo stile di guida è dato da come ti siedi la macchina. E magari ne riparleremo. Quindi ragazze mi raccomando, poi ovviamente il vostro dress code serale lo scegliete voi, ma magari come diceva prima Gian Maria in pretrasmissione, un paio di scarpe adatte alla guida in macchina le possiamo tenere e cambiarcela al momento in cui scendiamo. Sì, assolutamente. Io faccio sempre visto che qua si parla di rock and safe, quindi da un concerto all'altro ci si sposta ovviamente in sicurezza e il guidatore è consapevole. Si fa gruppo, al concerto si va in 4 o 5 e uno non beve. Io capisco che la birra ad esempio al concerto è parte integrante della musica che stai ascoltando più delle volte, specialmente se è rock. Però a rotazione uno non guida e questa è una cosa che ho visto nel tempo aiuta tantissimo. Anzi c'è la sfida interna tra i vari ragazzi, chi guida meglio, chi riesce a essere più accorto e poi insomma ci si accorge specialmente quando poi si torna a casa. Eh perché poi insomma c'è la consapevolezza e quell'amico insomma ti ha permesso di divertirti la sera ma soprattutto tornando a casa perché non solo vogliamo andare al concerto stasera, ci vogliamo tornare anche il giorno dopo e questa è la cosa importante. Gian Maria, è stato bellissimo chiacchierare, spero che ci saranno altre occasioni, non solo interviste, visto che fai attività nelle scuole, visto che speriamo con Rock in Safe anche noi di tornare a fare attività, di entrare in contatto con i ragazzi, chissà che non ci incontreremo in qualche sala a parlare insieme di sicurezza ragazzi. A disposizione, sono sempre pronto, casco in testa e si va. Meglio di te, chi può dirlo. Bene, ti auguro una buona estate, andrai in offshore di nuovo quest'estate? Ma guardo, appena concluso, come ti dicevo prima, la Pavia Venezia e adesso stiamo progettando l'edizione 2022, quindi magari qualche volta in barca ci salirò. Eh beh, fantastico. Benissimo, seguite Gian Maria Gabbiani sui social, su Instagram, ho visto che sei molto attivo, non solo la sua pagina ma anche la pagina di WhatsApp. WhatsApp, sì, è sempre sicuro, quindi abbiamo i due format e uno legato proprio alla sicurezza. Perché oggi la comunicazione è fatta anche attraverso i social e voi la fate veramente veramente bene. Quindi a livello proprio di comunità non possiamo che ringraziarvi. Bene, bocca al lupo per tutto Gian Maria. Lunga vita al lupo, rock and roll. Ciao. Fantastico Gian Maria che ha riportato la sua esperienza per divulgarla, a livello formativo, sia alle nuove generazioni, quindi seminando che nelle aziende. E fantastico a volte arrivare nei dettagli. Tutti, insomma, che hanno più che altro, insomma, un po' di anni come cominciamo a averne noi, sappiamo guidare, diciamo così. In realtà avete visto in un solo quarto d'ora quanti spunti di riflessione ci ha dato Gian Maria e quanti grossi consigli che possiamo mettere in pratica sin da domani. Quindi benvenga la sicurezza perché è bello stare bene oggi e soprattutto stare bene anche domani. Alla prossima puntata, be safe, be rock.